Ogni anno versiamo all'Europa milioni di euro e ne riceviamo solo una minima parte, perché non sappiamo utilizzare per bene le sue leggi, non sappiamo sfruttare i suoi finanziamenti. Nel Lazio esistono strutture specializzate in questo settore e la cosa più interessante è che sono strutture pubbliche. Pochi sanno che esistono, dove si trovino, cosa facciano, in che modo utilizzarle, portando la propria idea, facendola sviluppare e finanziare dall'Unione Europea. Ne parliamo nel numero 195, anno quinto, di Apporte Aperte. Benvenuto ai nostri ospiti, è stato sindaco di Campoli a Pennino. Nel 1995 il Ministro dell'Ambiente lo nomina consigliere per il Parco Nazionale d'Abruzzo. Per oltre dieci anni è stato docente di materiali per l'architettura nella Facoltà di Architettura di Roma, Valle Giulia, già vicepresidente vicario della Compagnia Nazionale delle Opere di Roma e del Lazio. Benvenuto al presidente del GAL, versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Loreto Policella. Buonasera, saluto a tutti. Viene dal mondo della cooperazione, ha gestito diverse cooperative, oggi guida l'organizzazione provinciale della principale associazione di categoria in Italia. Benvenuto al presidente di Lega Coop, Daniele Delmonaco. Buonasera, buonasera a tutti. E' stato vice sindaco e poi sindaco del suo comune, ha sviluppato e applicato attraverso il GAL alcuni progetti di riqualificazione del suo territorio. E' al secondo mandato, benvenuto al sindaco di Valle Rotonda, Gianfranco Verallo. Buonasera a tutti. E' l'erede di una lunga tradizione di ristoratori. Fino a qualche tempo fa gestiva uno dei ristoranti più antichi e rinomati. Assora la sua storia, affonda le radici addirittura al primo 800. Oggi ha puntato sulla tranquillità delle colline Arpinati, dove ha sviluppato la struttura del laureto. Benvenuto a Massimo Viscogliosi. Buonasera a tutti. Anche a questo numero di apporte aperte, come sempre, potete dire la vostra. Farci domande, proporre quesiti ai nostri ospiti, commentare, potete farlo con un sms 331 12 456 25. Nessun costo aggiuntivo a quello del normalissimo messaggio 331 12 456 25. Cominciate a mandare le vostre domande. Intanto, da anni ci dicono che i soldi sono finiti e che è arrivato quindi il momento di pagare i debiti. Soprattutto gli interessi che in questi anni sono maturati e le possibilità di sviluppo. Tutti i politici ci dicono che stanno nei fondi europei. Quelli che noi stessi, come abbiamo detto prima della sigla, finanziamo con i soldi delle nostre tasse. Ma riusciamo a ottenere indietro soltanto una parte, perché non tutti sono capaci di elaborare i progetti in maniera corretta. Una risposta è arrivata negli ultimi anni, quando sono stati creati i GAL. Sigla che sta ad indicare i gruppi di azione locale. Che cosa sono? Ogni GAL è un gruppo composto da soggetti pubblici e privati per favorire lo sviluppo di un'area, mettendo insieme, attorno allo stesso tavolo, tutti i potenziali protagonisti della crescita di quel territorio. Chi lo finanzia il GAL? Lo finanziano in genere i progetti europei. L'idea è nata con il progetto Leader Plus. Tra quelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel Lazio, c'è il GAL, versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo. Riunisce 28 comuni. La sua attività ve la riassumiamo in questa scheda. Il GAL, versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, è un'associazione di enti privati e pubblici che dal 1998 sperimenta modelli innovativi utili ad offrire opportunità economiche e sociali alle popolazioni rurali, utilizzando fondi europei. I gruppi di azione locale sono infatti pensati dall'Unione Europea per dare sostegno proprio alle aree rurali e sono in tutta Europa ad oggi 2301. Il GAL, versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, è attivo su un territorio di 28 comuni della provincia di Frosinone e si adopera per la costruzione del sistema turistico locale, integrando agricoltura di qualità, artigianato, ambiente, cultura, storia e identità locali. Dalla fine degli anni 90, utilizzando le programmazioni comunitarie dal 1994 al 1999, dal 2000 al 2006 e ancora dal 2007 al 2013, sono state finanziate dal GAL 69 strutture turistiche e didattiche, 47 imprese del settore agroalimentare e dei servizi per lo più gestiti da giovani e donne. Ulteriori 15 progetti sono attualmente in fase di realizzazione con le associazioni culturali e sportive del territorio. Con i enti pubblici sono stati realizzati 11 progetti relativi ai servizi e 28 interventi di restauro del patrimonio storico, culturale e ambientale. Ulteriori 30 progetti sono in fase di realizzazione con i comuni soci. Il totale dei fondi europei assegnati al GAL sono stati circa 15 milioni di euro per le due programmazioni concluse e circa 8 milioni di euro per l'attuale piano. Presidente Policella, ma qual è il segreto del suo GAL? Perché riuscite a farvi approvare così tanti progetti? Intanto noi facciamo dei piani prima di fare dei progetti. I GAL hanno questa caratteristica particolare, che hanno facoltà di pianificare prima i settori nei quali poi i cittadini, le imprese, le associazioni, i comuni possono presentare progetti. Quindi GAL ha innanzitutto questa possibilità di essere sussidiario alle richieste del territorio, di poter costruire un programma, un piano, che si chiama piano di azione locale, che è esattamente disegnato con un sarto sulle richieste del territorio. In ambito europeo si chiama approccio bottom-up, cioè dal basso, che in qualche modo si contrappone ad un approccio di pianificazione centralizzata dall'alto. In pratica mi sta dicendo, noi in tutti questi anni siamo stati abituati che il governo centrale o la regione, nella migliore delle ipotesi, decideva che cosa fare, poi se ci rientri bene, se no, fatti tuoi non ti tocca niente. Mi sta dicendo che l'idea rivoluzionaria dei GAL è che è vero che guardano all'Europa, anzi dialogano direttamente con l'Europa, ma sono sul territorio e quindi disegnano i loro piani, come le ha chiamati lei, sulla base delle esigenze del territorio, direttamente dal basso quindi. Sì, non solo, ma tentano di non interpretare semplicemente i fabbisogni del territorio, le domande o le richieste imprenditoriali, ma le stimolano e fanno sì che queste richieste imprenditoriali abbiano nell'ambito del GAL una prima verifica sulla loro compatibilità europea e globale, perché il grande problema dell'intrapresa locale in genere è esattamente questo, cioè che c'è un'intrapresa che spesso non si confronta con i programmi europei, che sono disegnati sulla base dei fabbisogni globali, quindi noi facciamo questa azione non solo di stimolo, ma anche di verifica della compatibilità di certe ipotesi progettuali che vengono dal territorio con i scenari globali. Faccio degli esempi. Presidente, prima dell'esempio, questo potrebbe essere considerato anche un indice di serietà, perché mi spiego, io mi presento con un'idea magari interessante che però non è finanziabile. Naturalmente chiunque mi direbbe, bene tu intanto pagami il progetto, presenta questo progetto, poi se non te l'approvano, beh è colpa dell'Europa, non è colpa mia. Voi invece fate quest'azione di filtro e se il progetto già vedete che non rientra all'interno di ciò che è lo schema generale che può essere finanziato, già dite guarda è una bella idea, ma non è finanziabile, fate questo? Esattamente, facciamo questo ma lo facciamo da una posizione che è all'interno del territorio, cioè un cittadino, un comune, un'associazione piuttosto che un'impresa che volesse in qualche modo verificare concretamente la fattibilità del proprio progetto, si rega nel nostro sportello e lì propone il progetto e noi in qualche modo gli diamo una prima valutazione che è molto importante, perché soprattutto per quanto riguarda le progettazioni fatte da privati, loro devono cofinanziare questi progetti con il 50% dei fondi, quindi si implicano abbastanza seriamente sul progetto e quindi prima di implicarsi è necessario che abbiano le informazioni adeguate perché questo non accada e poi questo è uno degli aspetti, diciamo così. La cosa quindi che colpisce, Presidente, è che comunque c'è più che altro anche un'attività di consulenza, è come se voi foste uno sportello dell'Europa direttamente sul territorio. Davanti all'ingresso del GAL c'è scritto l'Europa è qui, forse non tutte lo sanno, però c'è scritto questo, c'è scritto l'Europa è qui, noi abbiamo un codice di comportamento, abbiamo anche una morale, anche un'etica, derivata principalmente dall'approccio europeo. Presidente, mi dice un'idea, perché lei ha esaminato tantissimi progetti, mi dice come fa a riconoscere a colpo d'occhio, insomma, quest'idea può essere finanziabile, in genere che requisiti ha una buona idea per diventare poi un progetto europeo finanziabile? Beh, innanzitutto bisogna dire questo che, contrariamente a molte altre procedure, le nostre procedure sono oggettive, nel senso noi abbiamo dei criteri oggettivi di valutazione dei progetti numerici, faccio un esempio, se il progetto è presentato da un giovane prende più punti di un progetto presentato da una persona che ha superato i 40 anni, quindi sono numeri, se è un progetto, e questo è il criterio di valutazione complessivo, voglio dire formale. Quello invece sostanziale, a cui lei faceva dicendo prima, consiste in due o tre punti essenzialmente. Il primo, il più importante, è che il progetto sia un progetto che abbia, che ha in qualche modo un rapporto reale con i dati del territorio, con la situazione territoriale. Poi che ci sia un uomo dietro, una persona, una donna, una passione, che abbiamo verificato nell'arco degli anni, che quando si presentano progetti perché c'è un'occasione, ma non perché si ha una passione verso qualcosa, difficilmente questi progetti hanno seguito. Infine, noi facciamo una verifica proprio dell'efficacia nel tempo del progetto, perché molti progetti hanno anche un appeal iniziale molto bello, forte, ma poi non durano nel tempo. Quindi regge sul mercato. Mi sembra che lei stia dando anche delle indicazioni ben precise al nostro pubblico. Cioè, se io domani mattina mi inventassi il ristoratore, giustamente quei parametri che lei ha detto, insomma, magari ti piace, però arrivata a questa età non è un mestiere per te. Se io mi presentassi invece con un progetto editoriale, al di là della possibile finanziabilità, comunque quelle griglie, quegli schemi direbbero, hai 30 anni di esperienza in questo settore, bene, ti tengo quantomeno in considerazione. Daniele Delmonaco, ma funziona? Perché, insomma, detto così, sembra un pezzo di Europa che funziona in provincia di Frosinone. Funziona davvero? Direttore, sicuramente funziona meglio di tutto il resto. Questo va detto. Cioè, il concetto che diceva il Presidente Policella della prossimità nel territorio, il concetto di essere un ente intermedio che avvicina in bottom-up, come diceva benissimo il Presidente, la gente all'istituzione, ha fatto capire a tutti che è il sistema migliore. Noi riusciamo a spendere tutti i soldi che abbiamo a disposizione, che arrivano dall'Europa, e riusciamo a fare dei progetti che, come diceva sempre Loreto, sono fatti come un salto per questo territorio. Io vi dico alcune cose bellissime che sono accadute in questo territorio grazie al Gall, che oggi serve 28 comuni, se non mi sbaglio Presidente, 28 comuni di questo territorio, forse proprio la parte più difficile del territorio della provincia di Frosinone, è riuscito a finanziare degli investimenti, che poi vedremo probabilmente anche qui presenti stasera, che hanno dato delle svolte decisive anche dal punto di vista economico, hanno favorito l'imprenditoria vera, hanno favorito i giovani, hanno favorito le donne, con progetti sensati legati al territorio. Questo fa capire una cosa, che se noi agiamo in modo adeguato nel territorio, quindi ascoltando le persone, il Gall fa dei forum in tutti i territori, dove invita tutte le persone, ascolta quello che chiede il territorio. Spesso e volentieri non siamo bravi a farlo a diffondere, oggi è un'occasione e vi ringraziamo perché queste trasmissioni devono servire anche ai giovani ragazzi, alle giovani donne. Per questo lo abbiamo fatto, perché molti pensano che i Gall siano al servizio soltanto dei comuni, in realtà stiamo scoprendo oggi, ma no, anche i privati, l'importante è avere l'idea che sia realistica, fattibile e come ha detto il Presidente, dietro ci sia anche l'uomo, cioè la persona con la sua passione. Tra l'altro l'Europa è più o meno rigida dell'Italia perché una delle cose che spaventa tutti gli imprenditori che si sono seduti su queste poltrone hanno detto, maledetto il giorno in cui ho pensato di fare un investimento perché non immaginavo tutta questa burocrazia. E l'Europa? Quegli imprenditori hanno ragione, hanno ragione perché io non parlai di rigidità, sono regole, regole precise che l'Europa ci dà e che all'Italia dà più severe, perché qualche volta abbiamo sbagliato, diciamocela tutta, per cui le regole europee se noi riusciamo a seguirle non abbiamo problemi. La verità è che la burocrazia italiana, cioè gli enti intermedi tra noi e e l'Europa, che spesso è la regione, hanno nella loro burocrazia l'impedimento principale all'attività sia dei giovani che delle imprese. Se capisco bene, quando si parla di Europa c'è meno burocrazia ma dobbiamo essere più precisi? Dobbiamo saper fare le cose, noi abbiamo poca preparazione, pochissima preparazione, molta approssimazione nella progettualità, per fortuna non nel Galla, moltissimi progettisti non sono all'altezza delle aspettative europee, ma è anche vero che veramente la barriera all'entrata per queste cose è la burocrazia regionale, è la capacità di arrivare e conoscere in modo chiaro come fare la pratica, per poi non parlare delle garanzie finanziarie e tutto quello del resto che ci sta dire. Ci arriviamo tra un attimo, cominciamo a dare qualche cosa di concreto, esempio del pubblico. Sindaco Verallo, il suo comune cosa ha ottenuto dall'Europa attraverso il Gall? Il mio comune nei vari PLAS ha ottenuto il rifacimento del centro storico, quindi la pavimentazione veramente straordinaria soprattutto in Valle Rotonda e Valvori, ha ottenuto poi molto importante la banda larga nel secondo intervento PLAS e nel terzo ha ottenuto, torniamo all'argomento di prima, ha ottenuto la possibilità di realizzare degli impianti fotovoltaici ad inseguimento solare. Dico che questa è una peculiarità, perché una peculiarità? Perché ci ha permesso e questo è stato possibile solo con il Gall, con i tecnici del Gall, lavorando a contatto come diceva poc'anzi anche lei con l'Europa, ecco un pezzo d'Europa che si avvicina al territorio e questo è importantissimo. Noi siamo riusciti a realizzare tre impianti ad inseguimento solare con pochissimi soldi. Per fare questo abbiamo dovuto lavorare in house, abbiamo realizzato direttamente in casa. In casa, bravo. Abbiamo realizzato in casa, quindi abbiamo utilizzato i nostri dipendenti, l'ufficio tecnico che seguiva le lavorazioni e questa è una stranezza, chiaramente, che comporta tutta una serie di accorgimenti sotto il profilo burocratico. C'è un particolare sindaco sul quale porrei l'attenzione. Lei mi ha citato tre progetti realizzati. Ora, guardando all'Unione Europea, queste sono delle idee che nascono dall'Unione Europea perché dicono noi abbiamo in Europa tanti bellissimi centri storici che però sono in abbandono. Come possiamo evitare che questo centro storico venga abbandonato? Intanto diamo un buon motivo alla gente per andarci. Per cui, se rifacciamo la pavimentazione, a quel punto questo centro storico è vero che è antico, ma abbiamo ristrutturato e funziona in moderno. Se io faccio arrivare la banda larga, io ho pure internet che arriva a una velocità supersonica, per cui ci arriva addirittura anche la televisione di ultimissima generazione. I pannelli solari che consentono quindi di pagare meno la bolletta elettrica per il comune e quindi si paga anche meno tasse come cittadino. È questo il principio al quale i comuni oggi devono ispirarsi, Sindaco? Ma sono questi i principi fondamentali a cui ispirarsi, perché oggi siamo stati abbandonati a noi stessi. Soprattutto i piccoli comuni vivono difficoltà ingenti. Oggi i comuni e soprattutto quelli montani, se non avessero lo sbocco europeo del Gall, avrebbero poche speranze di sopravvivenza. Come è stato interfacciarsi con il Gall? Ha trovato burocrazia oppure si è presentato lì con questa idea e ha trovato gente capace di svilupparla. Ecco, quello che dicevamo prima, il progetto che nasce dalla base, fino ad oggi come siamo stati abituati a vedere le cose a livello di stanziamento regionale o statale? Si facevano dei bandi, si preparavano dei bandi per le scuole, per le strade e i vari comuni rispondevano a questi bandi. La cosa più dannosa è questa, che se un comune, come il mio magari, aveva già realizzato una scuola, l'aveva già sistemata e non vi era altro bando a disposizione, rispondeva nuovamente alla scuola, pur a quel bando, pur di fare qualcosa per il proprio comune e questo era un danno, un danno economico per l'ente Stato, l'ente Regione. Ecco perché con il Gall si lavora costruendo, costruendo sulle proprie esigenze, sulle esigenze del territorio il programma d'azione. Sindaco, un telegramma, abbiamo detto, lei ha realizzato queste cose nel suo comune attraverso queste linee guida che arrivano dall'Europa, quindi in che modo io evito che il centro storico di un comune vada a sparire, anche se non è attraversato da una delle principali strade di comunicazione, se posto in montagna, come faccio? Finanzio, quindi queste cose che rendono interessante, appetibile questo centro storico. Questo si chiama anche pianificazione, e programmazione a livello europeo, ma in Italia, dai governi italiani, lei da quanto tempo non vede una pianificazione di questo tipo? Ma queste pianificazioni, come dicevamo poc'anzi, queste pianificazioni in realtà non esistono. I fatti parlano da soli e ci dicono, visto che non riusciamo a spendere i soldi che l'Europa ci assegna, vuole dire che molti dei nostri rappresentanti politici conoscono a malapena il Parlamento europeo dove è situato. Questo lo approfondiamo tra un attimo, Viscogliosi, abbiamo visto l'esempio del pubblico, del comune, l'esempio del privato. Abbiamo detto che la sua famiglia ha una tradizione nel campo dell'accoglienza della ristorazione che risale addirittura all'Ottocento. Insomma, la sua famiglia ha realizzato, gestito alcuni dei ristoranti più famosi a Sora dall'Ottocento ad oggi. Arriviamo all'idea del laureto, ed è un'idea che si realizza anche in questo caso attraverso il Gallo, quindi è un privato. Mi racconta quest'idea come nasce, come si sviluppa attraverso il Gallo. Sì, inizialmente noi abbiamo aderito al PSR regionale con i fondi strutturali europei, dopodiché ci siamo avvalsi del Gallo per un intervento che prevedeva delle opere di miglioramento delle condizioni di friubilità degli spazi esterni e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ancora prima c'eravamo avvalsi per l'altra struttura, il Mingone, dove avevamo usufruito di fondi per l'ammodernamento degli impianti e della struttura. Per quanto ci riguarda abbiamo trovato una grossa disponibilità da parte del Gallo, del personale che con l'alta professionalità e disponibilità che hanno dimostrato nei nostri confronti, nei confronti delle attività come noi che si sono avvalsi di questi interventi. Abbiamo rato dei grossi giovamenti perché ci è stato possibile realizzare quelle opere seguendo dei consigli che ci hanno dato loro sulle cose che magari potevano rientrare o no in questo finanziamento. Diceva prima il Presidente, poi confermava del Monaco, ma se l'idea è buona e c'è la persona dietro, quindi con la storia che ha la sua famiglia nel campo della ristorazione, perbacco se c'è una storia, però dicevano queste idee poi in genere portano anche a nuove assunzioni, nuova economia. Nel suo caso è stato così, ha funzionato? Assolutamente ha funzionato, noi attualmente abbiamo assunto altro personale, quindi complessivamente il gruppo c'è circa 15 dipendenti, quindi è una grossa mano per il territorio. Per il territorio, intanto qui abbiamo, proprio su questo tema, una serie di sms 331-12-456-25, continuate a mandare messaggi, vediamone una prima selezione, vediamo come state commentando da casa. 331-12-456-25, nessun costo aggiuntivo. Buonasera, mi spiegate perché l'Italia è sempre quella che presenta meno progetti in Europa? Quanto è importante avere dei parlamentari europei? Cosa hanno portato al nostro territorio i due europarlamentari che fino ad un anno fa sono stati a Bruxelles? Presidente, vuole spiegare a quegli scienziati contrari ai politici con lunga esperienza che tedeschi, olandesi e francesi mandano da oltre 20 anni gli stessi deputati perché sono espertissimi, mentre da noi non fanno in tempo a capire dove sono finiti e non vengono più candidati. I comuni, come si rapportano con voi? Perché è così difficile fare i progetti europei? I nostri politici si riempiono la bocca di Europa e tanti tecnici parlano di progetti europei promettendo la luna. Secondo voi ci sono persone davvero competenti nei nostri comuni? In Europa, a Bruxelles, siamo pieni di barbieri e di autisti italiani. I funzionari più esperti sono quelli piazzati da francesi e tedeschi 30 anni fa quando noi mandavamo invece la manovalanza. Vorrei chiedere al presidente della Lega Coop, la cooperativa è ancora un'impresa giusta per un giovane che vuole investire nel nostro territorio. Si pensa tanto agli stranieri, ma i veri italiani, chi li vede? Solo Dio. Danilo da Frosinone al presidente Daniele del Monaco, sei grande, forse sarà riferito alla taglia. Prepariamoci al peggio per colpa di Prodi e dell'Europa che ci sta mangiando vivi. Questione di punti di vista. Che fine ha fatto Amazon? Allora, presidente Policella, perché l'Italia è quella che presenta sempre meno progetti degli altri paesi in Europa? Diciamo un paio di cose per inquadrare meglio questa questione, perché domande sono tante, io cercherò di rispondere una alla volta. Una alla volta, tanto, gliele ricordo. Io devo usare per forza dei termini tecnici, non mi piace usarli, però in questo caso è bene usarli. Esistono due modalità possibili di sviluppo economico. Diciamo, c'è una modalità che si chiama sviluppo locale, ed è quella che pratica il GAL, e poi c'è una modalità che può essere sinteticamente definita, centralizzata, pianificata dal centro. L'Europa è un territorio vastissimo e con caratteristiche territoriali molto diverse le une dalle altre. Se noi soltanto pensiamo a Lazio, per fare un esempio su Lazio, abbiamo la provincia di Rosinone che ha piccole aziende agricole, di piccole dimensioni, piccola impresa, agricole. Andiamo a Latina e ci sono grandi produzioni industriali nel campo dell'agricoltura. Faccio questo esempio per dire che i connotati del territorio sono diversi caso per caso e, essendo diversi, diversa deve essere la strategia di produzione dei progetti. Ora, quando si pianifica da un livello più alto, per esempio regionale, si pianifica in astratto da queste situazioni, si pianifica per tutti e chi può prendere quello che può prendere. Tant'è vero che di soldi se ne perdono tanti. Il motivo quindi perché innanzitutto noi presentiamo pochi progetti o ne presentiamo male, è innanzitutto un problema che si chiama sviluppo locale, cioè che non c'è una politica in Italia, e questo a prescindere anche dai carri, non c'è stata una politica sullo sviluppo locale, cioè che programmi i finanziamenti di tutti i tipi, sia europei che non europei, a partire dalle caratteristiche del territorio. Cioè che a Valle Rotonda possa arrivare la banda larga non è stato il governo nazionale italiano a prevederlo, ma è stata l'Europa. Colleghiamo a questo punto un altro dei quesiti che chiedevano da un punto di vista più politico, ma è importante avere a Bruxelles e Strasburgo dei parlamentari europei e quelli che abbiamo avuto nel recente passato, chiedeva un messaggio, sono stati utili? Beh, io innanzitutto vorrei dire questo, che il ruolo che hanno i parlamentari europei è un ruolo un po' meno diretto sul territorio, perché i parlamentari europei non fanno sindacato territoriale, loro si occupano e si devono occupare normalmente di problemi di livello europeo, mentre spesso viene confuso questo ruolo con un ruolo di chi dovrebbe essenzialmente occuparsi di fare sindacato territoriale. Quindi fanno delle cose diverse. C'era però un altro messaggio che diceva, e anche qui ci porta sul piano politico, ma in Italia c'è chi, siamo in piena ondata di antipolitica, basta con i politici di professione, sempre gli stessi. E poi c'è questo messaggio che ci dice, ma guardate che tedeschi, olandesi e francesi mandano sempre gli stessi da 20-30 anni, i nostri non fanno in tempo a capire dove sono arrivati, come funzionano le cose che già non li ricandidano più. L'esperienza è un valore aggiunto in questo caso? No, certo, è un valore aggiunto ed è quella una buona considerazione. Esiste vero una strategia, direi, io sono presidente del GAL del versante nazionale del parco nazionale di Abruzzo, ma da oltre 4 anni sono anche coordinatore di tutti i GAL del Lazio, per cui mi rego spesso a Bruxelles in rappresentanza dei GAL del Lazio, quindi questa cosa la conosco abbastanza bene. E in effetti i paesi che sfruttano meglio i fondi europei, sono paesi che situano in ambito europeo personalità che poi prestano per molto tempo, quindi hanno il tempo di acquisire le procedure, hanno il tempo di capire bene quali sono i passaggi, perché considerate, adesso io non voglio dilungarmi molto su questo punto, però un parlamentare europeo, intanto dovrebbe andare in Europa chi conosce le regole europee e non doverle imparare quando va, e questo è un principio buono, perché se io vado in Europa e poi devo imparare come funziona l'Europa, quando ho finito di impararla me lo andano via, sarebbe più utile mandare qualcuno che ha una conoscenza, parte già con una conoscenza, ma a parte questa piccola considerazione polemica che però mi tengo, il punto vero è che per ottenere il massimo dei risultati, il problema non è tanto e solo il parlamentare europeo, il problema vero è la politica di sviluppo locale che un territorio come il nostro, pieno, zeppo di piccole e medie imprese, piccolissime imprese, fa negando lo sviluppo locale, lo sviluppo locale è quello che porta sviluppo alle imprese piccole. Momento Presidente, fermiamoci con i messaggi, li riprendiamo tra poco e vi propongo i messaggi tra poco, vediamo, proprio per far vedere in concreto che cosa realizzate, chiederei al nostro Danilo Costanzo in regia, se ci propone la serie di slide che abbiamo preparato nel pomeriggio, così con il Presidente le commentiamo rapidamente a una a una, giudicando, ecco allora questo è un progetto che è stato realizzato a Colle San Magno, Museo della Memoria, cosa possiamo dire su questo progetto Presidente? Dunque, questo è un museo che racconta la memoria dell'ultima guerra mondiale, la linea Gustaf e anche, ed è un museo che ha un valore molto importante perché è inserito in un sistema museale locale, il GAL ne ha realizzati una decina di musei e questi musei sono convenzionati fra loro, per cui è possibile oggi nel territorio fare un excursus per tutti questi musei e diventa un pacchetto turistico sostanzialmente, cosa che... Quindi di fatto c'è un percorso, se io seguo la mappa dei musei che avete realizzato, c'è già questo percorso che mi accompagna a capire la storia del territorio nel quale sto andando, progetto realizzato e concluso, andiamo avanti, qui siamo a Campoli a Pennino, questo è un progetto, anche questo, concluso, cofinanziamento da 118 mila Euro, di che cosa si tratta Presidente? Dunque, questo è un museo del paesaggio, sapete che a Campoli a Pennino è stata istituita recentemente l'area faunistica dell'Orso Marsicano. Mi scusi, museo del paesaggio? Sì. Che cos'è un museo del paesaggio? È un punto, la Torre di Campoli è un punto d'osservazione straordinaria per tutto un territorio, grandissimo, è dunque una fruizione del paesaggio. ed era già utilizzata a questo scopo, perché molti si regavano sulla Torre per guardare il paesaggio, lì è stata descritta in questo museo la storia del paesaggio, proprio la storia di come il paesaggio, non solo del paese dei Campoli, ma del territorio e tutto quanto, si è venuto costituendo per stratificazioni continue, è possibile salendo la Torre vedere le diverse stratificazioni, vi assicuro una bellissima esperienza. Tra l'altro è un museo visitatissimo, sì. Perché non dobbiamo dimenticarci che ci sono delle zone dell'Europa, perché l'Europa, lei ce l'ha ricordata, è vastissima, dove non hanno le montagne ad esempio, qui invece addirittura si sale su questa torre e si vede quindi come cambia il paesaggio. Altro progetto, San Biagio Saracinisco, area archeologica Omini Morti. Noi siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché l'Omini Morti è un grandissimo cimitero che ha raccolto gli esiti di molte battaglie tra Sannite e Romani prima e poi successivamente, perché è in un punto strategico. Si contano circa 4 mila tombe, è una cosa straordinaria, una chicca unica nel nostro territorio, non conosciuta assolutamente. Noi abbiamo fatto degli scavi e abbiamo realizzato con la collaborazione del comune e del sindaco, che qui ringrazio perché è stata veramente una persona appassionata da questo, un piccolo museo dove è possibile guardare, avere un'idea molto precisa di questo scavo. C'è una tomba ricostruita e ci sono tutti i resti che sono stati trovati con la descrizione della vita Sannita, perché non esistono musei che narrano la civiltà Sannita. Sapete che i Sanniti sono stati distrutti completamente dai Romani, per cui non ci sono molti resti. I Romani avevano questa abitudine che quando sconfiggivano una popolazione ne cancellavano la storia e quindi molti pensano che la storia sia cominciata con i Romani. Altro progetto, qui andiamo a Casalattico e praticamente i seggi pagliai e la transumanza. La transumanza era quell'antico tradizione, anticorrito che prevedeva il passaggio con tutto il bestiame da una zona all'altra attraversando intere montagne per portare il bestiame nel pascolo fresco. Voi che cosa vi siete inventati? Dunque, questi sono dei punti, intanto questo qua è una tipologia di pagliaio, diciamo così, di ricovero, che è assolutamente strana per il nostro territorio, perché è a forma di, diciamo, ha una capanna con un pilastro centrale, che è tipicamente un'architettura diciamo nordica, quindi è strana la presenza di questo manufatto lì. Ma la cosa interessante è che è disseminato il territorio di questi manufatti che servivano da ricovero per le bestie e come passaggio per la transumanza. Adesso è diventato un percorso turistico che è con la possibilità di soggiornare all'interno di questi spazi che sono stati restaurati. Andiamo avanti, altro progetto. Qui siamo a Valle Rotonde, ce l'accennava il sindaco, anzi lascerei proprio il sindaco commentare questo progetto fotovoltaico ad inseguimento solare. Praticamente che fate? Inseguite il sole a Valle Rotonde, passate la giornata così? Gli altri in genere si riparano dal sole, specialmente d'estate, noi lo inseguiamo. Quello che dicevo poc'anzi, questa è una realizzazione innovativa, ma è innovativa come è stata realizzata, quindi deve apportare una riduzione dei costi, perché noi dobbiamo abbattere i costi di gestione dei nostri comuni che ormai sono a lumicino sotto il profilo dei residui che abbiamo a disposizione e per cui dobbiamo impegnarci a trovare soluzioni alternative. L'efficientamento energetico è una di queste strade da noi percorse. Come dicevamo prima, questa è una struttura, francamente, che dà il là a future iniziative in questo senso. Ma non finisce qui. Altro progetto che è stato realizzato dal Gallo, qui andiamo a Ripi, Museo dell'Energia. Dunque, forse non tutti sanno che il Ripi ha dei pozzi di petrolio. Storicamente esistono pozzi di petrolio da centinaia di anni. L'idea del Museo dell'Energia è quindi la cosa migliore per un territorio che in qualche modo ha prodotto energia, solo che questo è un museo che racconta in maniera bellissima, interessantissima dal punto di vista didattico. Tutti i possibili modi di utilizzo di tutte le energie, dalle origini fino ad oggi. Io consiglio a tutti di visitare questo museo, che è veramente una delle cose più belle che abbiamo in provincia. L'altro Presidente si paga un biglietto unico per fare tutto quanto il percorso o in ogni museo bisogna pagare un ticket? No, in questo caso si bisogna pagare un ticket per ogni museo, non per qualche ragione, perché questi musei hanno diverse modalità di gestione. Comunque, in questo caso, essendo non solo un finanziamento del GAL, ma un finanziamento che il GAL ha avuto insieme ad altri, si paga il biglietto e c'è un responsabile del museo che è... Potrebbe essere un'idea metterli a sistema e quindi fare uno sconto, se ti giri 10 musei finanziati dal GAL, hai diritto con lo stesso biglietto a uno sconto sul biglietto successivo. Noi abbiamo fatto un protocollo di intesa tra tutti i comuni che hanno realizzato questi musei. Questo protocollo di intesa adesso è in attesa di un piccolo finanziamento che abbiamo chiesto per costruire questo pacchetto, perché anche costruire il pacchetto significa organizzare proprio tutto il percorso. Comunque si farà. Andiamo avanti, perché c'è ancora dell'altro, qui siamo a Bovilla Ernica, a contatto con la storia a due ruote, cioè? Il Bovilla è uno dei più bei centri storici che noi abbiamo nella provincia da Frosinone e ha una strada carrabile che gira intorno alle mura. È stato realizzato un percorso invece ciclabile che fa lo stesso percorso e consente a tutti di poter fare anche un'attività tipo sportiva. Ed è proprio costruito intorno al cerchio, diciamo, delle mura di Bovilla. Di Bovilla. Andiamo avanti. Siamo a San Donato Valcomino, l'archivio della memoria, perché pochi sanno che San Donato Valcomino è uno dei centri dai quali c'è stata una delle maggiori ondate migratorie e questo poi porta a perdere la memoria, a ritrovare una memoria diversa quando si ritorna. Voi avete inventato questo archivio della memoria che consiste in? Mi devo faccia spendere due parole su questo progetto. La Valle di Comino, come moltissimi territori italiani, ha subito cicli di emigrazione continua dal 1860 in poi. Quindi c'è una grande quantità di persone che è andata via da quel territorio e che si è situata in tutto il mondo ormai. Quindi era molto importante. In più sempre il comune di San Donato Valcomino ha sempre avuto cura di mantenere le tracce di tutta questa vicenda. Era proprio nell'animo popolare questo racconto di queste tracce. Per cui si è deciso di costruire un archivio della memoria che potesse dare senso a tutti i ragazzi o tutti i giovani, ma anche a chi visita proprio questo archivio, che poi è visitabile online e quindi è possibile aperto a tutti, di costruire questo archivio in cui è narrata la memoria di tutti questi flussi ed è anche narrata un po' la storia del nostro territorio, perché narrando questi flussi ci sono tutti i periodi della storia nei quali poi sono accadute queste… è bellissimo. È un modo come per avere un nonno ideale che ci racconta l'epoca della sua emigrazione. La particolarità di questo progetto è che è possibile per ciascuno introdurre nuovi documenti. Ciascuno può, chiunque ha interesse a farlo, ha documenti per aggiungere. Si può aggiungere direttamente, con un sistema molto semplice, a costruire una memoria collettiva diciamo così, che è importante perché mentre la memoria individuale di ciascuno può narrare fatti che riguardano proprio gli aspetti personali, quella collettiva spesso si perde proprio per questa mancanza di un archivio della memoria collettiva. Quindi se io sono negli Stati Uniti d'America e sto guardando Teleuniverso in questo momento in streaming sul nostro canale www.teleuniverso.it oppure vedo la registrazione di questa puntata sul nostro canale YouTube Teleuniverso TV, praticamente vedo che esiste questo museo. Mio nonno magari è emigrato dalla Valle di Comino. apprendo che esiste questo museo, posso fornirvi delle foto, delle registrazioni, dei documenti di questa persona che è stata per tantissimi anni negli Stati Uniti d'America, magari ha fatto parte delle primissime ondate di emigrazione, quindi contribuire a costruire questa memoria. C'è tutto un sistema di organizzazione delle tracce che vengono, dei documenti che vengono proposti e c'è anche un sistema, questo lo voglio dire, c'è anche un sistema per tentare ciascuno con la propria identità di introdursi in questo archivio, perché ciascuno di noi è portatore di storia, quindi può cercare la storia della propria famiglia, è un lavoro collettivo che non potrà che crescere. Altri, vediamo se facciamo in tempo a vedere qualche altro progetto, qui siamo a Terelle e qui parliamo del santo bevitore, che idea è questa? Dunque, noi abbiamo avuto una piccola intuizione, proprio nel nostro progetto, in una delle nostre azioni riguarda la possibilità che aree fabbricate pubblici possono essere concessi ai giovani per attivare attività anche commerciali, con un percorso pubblico privato molto particolare, questo è un caso così, il Comune ha dato in gestione a una cooperativa di giovani un locale che era assolutamente vuoto, non più utilizzato e che costava al Comune soltanto un lavoro di manutenzione continua, loro lo hanno con una piccola convenzione tra Comune e questo gruppo di giovani, è stato costruito questo santo bevitore che è un luogo interessante dal punto di vista culturale che è culinario, perché è veramente avuto un successo enorme. Grande successo, dobbiamo essere veloci perché ora abbiamo la pubblicità, siamo a Villa Latina, azienda agricola erboristica Michael Caira, di cosa si tratta? Beh, questa è veramente un'eccellenza perché qui c'è un'azienda erboristica con processi che ha adottato, abbiamo aiutato a finanziare, processi di valorizzazione, di conservazione e anche di promozione di tutta la filiera erboristica locale che è all'avanguardia, abbiamo finanziato una cosa che veramente ci rende orgogliosi. A presto, vediamo l'altro progetto, qui siamo a Dalvito, antica pasticceria di Tullio, ecco qui vediamo come si possono finanziare anche imprese private, progetti privati a condizione che come ci diceva prima ci sia un progetto vero e ci sia una storia dietro, in questo caso? In questo caso voi sapete che il Ducato Dalvito per 300 anni ha ospitato una corte vera e propria, il territorio della Valle di Comino, allora nel Ducato Dalvito è una sua capitale, una piccola capitale, quindi è una corte, quindi si sono molto sviluppate le attività, soprattutto questa è legata alla cucina di corte e quindi ai dolci di corte, per cui esiste a Dalvito una fortissima tradizione in questo senso. questo di Tullio insieme a qualche altra struttura di questo tipo che è lì a Dalvito ha mantenuto questa tradizione, noi ci siamo limitati ad aiutarli a mantenere questa tradizione e a trovare sia dal punto di vista dei macchinari e della messa a norma igienico-sanitaria, ma anche dal punto di vista della promozione all'estero, loro vendono in tutto il mondo. in tutto il mondo, avanti abbiamo Arpino Agriturismo Laureto, qui ce lo dice direttamente chi ha presentato questo progetto, Viscogliosi. Sì, allora noi come dicevo prima abbiamo fatto un progetto con il Galle che prevedeva l'ampliamento di tutti gli spazi esterni e la fruibilità quindi degli stessi. Intanto da quello che vedo, qui immagino che vedo delle strutture in muratura, sono dei vecchi casali questi che voi avete recuperato, c'è quest'area lì intorno di quanti metri? Intorno alla struttura sono circa 7 ettari di terreno. Quindi 7 ettari di terreno che voi avete messo a sistema per accogliere la gente e in pratica vedo anche che c'è un parco, c'è il parco utilizzabile della clientela che utilizza la parte ristorativa agrituristica, poi abbiamo tutta la parte boschiva dove abbiamo l'allevamento dei maiali allo stato brado, animali di bassa corte e poi abbiamo delle altre coltivazioni, di ortaggi e cose varie. Che vengono poi utilizzati per le vostre cucine. Assolutamente sì. Ultima scheda, questa è quella di Atina, il centro ippico di Atina. Noi ci fermiamo a questo punto per la pubblicità, un minuto e mezzo di pazienza, non vi muovete perché adesso vi raccontiamo tante altre esperienze e daremo risposta ai vostri messaggi. Non vi muovete. Seconda parte di A Porta Aperta, sempre in diretta su Teleuniverso, ci siamo lasciati su quella che era la scheda del centro ippico che è stato realizzato ad Atina con l'intervento del GAL, il gruppo di azione locale. Abbiamo detto che il GAL è questa struttura che sul territorio è direttamente collegata con l'Unione Europea. Abbiamo visto alcune delle cose che ha realizzato, finanzia, progetti pubblici ma anche iniziative private. Allora dopo il centro ippico di Atina, altra schermata che è l'ultima ed è quella del Festival delle Storie della Valle di Comino. Presidente Policella, centro ippico di Atina e festival delle storie. Allora, centro ippico di Atina voglio dire questo, che è una struttura che è veramente invidiabile che abbiamo, perché raccoglie in periodi particolari, perché per quanto riguarda il turismo voi sapete tutti che noi abbiamo il problema che le attività turistiche nel nostro territorio si svolgono soprattutto durante il periodo estivo o a Natale, invece il centro ippico è una struttura che funziona soprattutto d'inverno, anzi, ed è in controtendenza, quindi permette a tutta una serie di attività, alberghiere, di ristorazione, che sono ubicate nel territorio di lavorare in periodi che per noi sono difficili, diciamo così. Festival delle Storie poi è l'occasione per fare un grande evento culturale sul territorio, richiama ogni anno nomi di prestigio. Noi vediamo, se abbiamo richiamato l'attenzione del nostro pubblico, 331 12 456 25, vediamo quali sono i messaggi che nel frattempo sono arrivati. Continuate a mandarli per avere informazioni, proporre requisiti, qual è la quota che deve essere versata dai comuni o dal privato per partecipare al progetto e qual è la commissione da pagare al GAL. È vero che un progetto ha più possibilità di passare se coinvolge più territori? Spiegatemi come fate a mettere d'accordo tanti GAL in un solo pollaio, come si fa a presentarvi un'idea? È vero che poi è difficile fare la rendicontazione perché in Europa sono molto molto rigidi per togliere la burocrazia, eliminare le parole autorizzazione e regolamento. I politici vivono con la burocrazia, si riconoscano e si scelgano le competenze giuste, Presidente. Ci sono fondi per le start-up, il GAL spesso si sostituisce ai fabbisogni delle popolazioni locali anche agli stessi comuni. Allora, diamo risposta ad alcune di queste domande. Sindaco, ma praticamente è vero che poi è difficile fare la rendicontazione, dicevamo prima con Del Monaco che nei progetti europei c'è meno elasticità, però ci sono delle regole. Se si rispetta quelle regole si passa, quindi è difficile fare la rendicontazione? Non mi sembra assolutamente che sia difficile fare la rendicontazione, soprattutto utilizzando lo staff del GAL. Bisogna essere pragmatici e tirare avanti i dritti per la propria strada. Quindi questi concetti della difficoltà io credo che siano concetti assolutamente inconsistenti. Inconsistenti. Viscogliosi, dal punto di vista del privato, è difficile fare la rendicontazione? Assolutamente no, è stata una cosa molto semplice. Ci siamo a cabbalzi della collaborazione dell'organo, del GAL e dei propri dipendenti, dei collaboratori per farci aiutare nel preparare tutta la documentazione necessaria, ma non abbiamo trovato alcuna difficoltà. Alcuna difficoltà. Del Monaco, come si fa a mettere d'accordo tanti GAL in un solo pollaio? Perché quindi hanno capito da casa che il GAL mette attorno allo stesso tavolo i protagonisti dello sviluppo del territorio. Come si fa a metterli d'accordo? Allora, si mette d'accordo in un modo semplicissimo, facendo di capire che stando insieme è meglio. Nel senso che l'intento del GAL è proprio quello di favorire l'unione di enti intermedi come i comuni, in questo caso, o associazioni, perché lo spirito di tutti i finanziamenti europei, e soprattutto di quelli della programmazione che verrà dal 2014 al 2020, è quella, per le nostre zone, per le zone interne, poi Loredo ci potrà spiegare meglio, di favorire addirittura l'intreccio tra i tre grandi finanziamenti europei, che sono il FESR, il FEASR e l'FSE. Questa cosa è possibile soltanto nelle zone montane, interne, nelle zone rurali, che ben conosciamo. Rurali è diverso da zone di compagna, non zone urbane, per capirci, perché è un concetto fondamentale che l'architetto ci può spiegare meglio. E vi dico che questo intreccio delle tre possibilità economiche che riguardano svariati miliardi di Euro per l'Italia e svariati milioni di Euro per il Lazio, possono essere intercettati. Se tutti insieme, invece di usare l'Io, ogni comune, incominci a usare il noi e a capire che insieme si può fare meglio, insieme si hanno dei risultati, hanno un punto di riferimento del GAL che può affiancare quei tecnici comunali del piccolo comune, può affiancare quel professionista dell'altro comune medio, per mettere insieme e fare delle cose per il nostro territorio, che hanno un valore per il futuro e che hanno un valore imprenditoriale importantissimo, cioè che resistono, imprese che resistono negli anni. Questo è fondamentale. Per cui capire, mettere d'accordo i Galli, come diceva, era una battuta GAL-Galli, no? I Galli o Galletti ce li abbiamo sempre, però la verità è che ormai tutti i sindaci, e qui c'è uno che non è testimone, hanno capito veramente l'importanza di utilizzare degli strumenti di questo tipo, mettendosi loro al servizio di chi progetta. Cioè si è un po' rovesciato l'idea della progettazione. della progettazione. Presidente, c'è chi ha mandato un messaggio e ha detto, ma ci sono fondi per le start-up, cioè per le imprese che stanno nascendo? Ci sono fondi per le start-up, in tutti i settori. E noi abbiamo una specifica dotazione di fondi per le imprese che vogliono formarsi o che hanno comunque un'idea progettuale valida, perché la start-up di per sé, senza una idea imprenditoriale, non ha nessun senso. Sindaco, c'era un messaggio che chiedeva, ma i comuni in che rapporto stanno con il Gall? È difficile il rapporto? Perché immagino che questo messaggio voglia dire, in genere è il sindaco quello che è il dominus di un progetto, controllo io, faccio io, gestisco io. In questo caso avete delle griglie europee all'interno delle quali stare e avete poi una relazione con il Gall, perché è il Gall che è elemento fondamentale per realizzare la vostra idea. Come sono i rapporti? Come ci si rapporta? Ma questo retaggio un po' dettato dal campanilismo purtroppo è venuto meno nei rapporti all'interno del Gall. Il Gall si è posto come catalizzatore straordinario e ha permesso già dall'inizio, perché stiamo parlando già dal 2002-2003, Presidente, se non erro, già da quella data ci si confrontava in maniera molto chiara, mettendo un po' da parte quello che era poi lo spirito che anima un po' tutti noi sindaci, che è quello di proteggere il proprio campanile. Oggi questa considerazione è diventata ormai vitale, e io mi sto spendendo proprio in questa direzione coinvolgendo gli altri comuni affinché si ritrovi una identità territoriale prima di tutto e poi abbiamo a disposizione un Gall e altre situazioni che ci possono permettere di andare avanti certamente a braccetto, in sinergia, sfruttando al meglio quello che è il territorio che rappresentiamo. Viscogliosi, telesoccorso, risparmio energetico, strutture sostenibili sotto il profilo ambientale, cosa è stato fatto e cosa invece è possibile fare ancora sulle nostre strutture ricettive per essere davvero di livello europeo? È stato fatto purtroppo poco fino ad oggi e si può fare quindi, resta da fare molto. Per quanto ci riguarda stiamo già lavorando in questa direzione, quindi aspetteremo magari il nuovo bando europeo per aderire a questi nuovi progetti e sviluppare questi nuovi progetti. Quindi avete in mente di partecipare anche a questi progetti? Sì, abbiamo in mente di partecipare a questi progetti, quindi sviluppare per abbattere un po' i costi energetici e nello stesso tempo creando non impatto ambientale. Presidente Policella, spesso ci viene rimproverato che non sappiamo spendere i soldi europei. C'è quella famosa storia delle autostrade d'Italia che sono state realizzate, non ricordo quale paese europeo, con i soldi che l'Italia non utilizzò, quasi una beffa. Però vediamo un attimo qual è lo stato di avanzamento dell'impiego dei soldi del GAL. Lo facciamo utilizzando alcune schermate, magari le commentiamo insieme. Questa è la sintesi dello stato di avanzamento del vostro piano di sviluppo a livello locale. Vediamo se dalla regia il nostro Danilo Costanzo ci propone queste slide, che erano due conti che erano stati fatti nel pomeriggio. Quindi abbiamo un problema con la sintesi di questi dati. Ci dica intanto a voce. Intanto volevo dire, volevo approfittare un attimo per chiarire un punto sulle domande che sono state fatte in precedenza, del come i comuni possono dialogare con il GAL e quali siano in qualche modo le difficoltà che poi possono sorgere. In effetti sorgono queste difficoltà. Io vorrei dire questo. Normalmente i problemi territoriali si presentano ad una certa scala. La scala di determinati problemi, faccio un esempio perché dice se io devo costruire una segnaletica territoriale, non posso costruirla con un comune, devo mettere insieme un gruppo di comuni. cosa si oppone al fatto di rispondere a quel problema che è a quella scala lì con tutti i soggetti che quella scala devono determinare? Se io pongo un problema, un tema progettuale che è ad una certa scala, devo corrispondere con le amministrazioni locali, con i soggetti del territorio a quella scala lì. Quindi se sbaglio questa scala, se tento di fare una segnaletica territoriale con un comune, non ci riesce. Quindi il problema è di adeguare, e questo è il lavoro principale che fa il GAL, perché poi i protagonisti sono i comuni, sono le imprese, sono le associazioni. Il GAL si pone il problema di collocare alla scala del problema la soluzione. Faccio questo esempio, ho fatto perché sia abbastanza chiaro. Adesso noi stiamo elaborando con un gruppo di 12 comuni una segnaletica che porterà i turisti dall'autostrada fino al versante naziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma non potevamo farlo se non con quel gruppo di comuni che fa parte del Parco Nazionale d'Abruzzo. Quindi quei comuni hanno immediatamente compreso che l'unica modalità utile per poter realizzare quel progetto è lo stare insieme. Quando lo stare insieme è determinato da fattori reali, non c'è campanilismo. Non c'è, perché ciascuno si rende conto che sta facendo il bene comune. C'era un messaggio che diceva qual è la quota che deve essere versata dai comuni o dal privato per partecipare al progetto, perché abbiamo detto che questi non sono finanziamenti a fondo perduto, è anche un modo per tastare il vero interesse di chi sta chiedendo questi soldi. Chiedo, presento un progetto da un milione e io di questo milione quanto ci devo mettere? Il privato mette il 50%, il 50% lo dà il GAL. Il pubblico mette solo l'IVA, paga solo l'IVA. Chi controlla le spese? Direttamente voi del GAL oppure c'è una commissione dell'Unione Europea? Ci sono cinque livelli di controllo. Cinque livelli di controllo? Sì. Il primo controllo, noi abbiamo, un primo controllo si fa in fase progettuale, quando viene presentato il progetto, e si controlla la fattibilità reale del progetto, la cantierabilità. Il secondo livello si chiama monitoraggio e si compie nell'arco dell'attuazione del progetto, cioè si verifica che il progetto venga realizzato esattamente come è pensato e nei tempi previsti calcolano il programma. Poi c'è un terzo livello che è la rendicontazione, a chiusura del progetto la cosa a cui facevamo cenno prima, che va a verificare se effettivamente tutte le spese corrispondono, e questi sono i primi tre che attuano il GAL. Ce ne sono ancora due, uno regionale e una di un'azienda di controllo nominata dalla Comunità Europea, terza. Quindi ogni progetto è controllato cinque volte. Cinque volte. C'è una commissione da pagare al GAL? Cioè viene il Comune di Valle Rotonda e dicevo vorrei fare questo progetto, me lo sviluppo in house, ci ha spiegato il Sindaco, cioè con i miei tecnici, lo porto a voi per valutare se ci sono le condizioni per andare avanti, per farvelo portare in Europa, il Comune vi deve qualcosa? Il Comune, nel caso per esempio del Comune di Valle Rotonda, ma tutti i comuni, è socio del GAL, quindi pagano una quota annuale in quanto socio. I servizi che il GAL, pagando questa quota e diventando socio, ottiene due grandissimi risultati. Il primo è che può ottenere finanziamenti diretti dal GAL per il Comune, il secondo è che abilita tutte le proprie aziende ubicate nel suo territorio a presentare progetti al GAL. Non trascurerei questa cosa qua. Un Comune che è fuori del GAL, non solo è fuori come amministrazione, quindi non fruisce dei fondi come amministrazione, ma impedisce anche a tutte le aziende, ai cittadini e alle associazioni di poter fruire dei fondi del GAL. La quota è quella, perché noi i fondi per il funzionamento del sistema, dell'ufficio del GAL sono in proporzione sulla capacità di spesa che abbiamo. Se noi abbiamo una capacità di spesa 100, abbiamo l'8-10% di fondi per il funzionamento. Se si riduce la capacità di spesa, si riduce la disponibilità dei fondi per il funzionamento del GAL. Quindi la cosa importante da ribadire, Sindaco, è che se un Comune non partecipa, comunque al di là del fatto che il Comune stesso non può usufruire dei vostri servizi, ma taglia fuori anche le imprese, le attività economiche, le attività artigianali di quel territorio, che magari potevano usufruire dei vostri servizi. Il privato deve pagare una commissione per i vostri servizi? No. Quindi se è un Comune associato non deve pagare assolutamente nulla. Del Monaco come si fa a contattare il GAL? Come ci si mette in contatto con il GAL? È semplicissimo, nel senso che c'è un sito molto all'avanguardia di quelli che vanno di moda adesso, se non sbaglio il Presidente mi correggerà, è www.galverla.eu, che è proprio il nome dell'Europa. www.galverla.eu.eu. Questo è un sito molto esaustivo dove si chiariscono tutte quelle cose che oggi stiamo dicendo e dove ci sono i contatti per chiarirsi le idee. Ma poi tutti i comuni del GAL, tutte le associazioni che fanno parte del GAL ricevono comunicazioni dal GAL che vengono girate ai propri associati, quindi diventa un tantam all'interno dei comuni, un tantam all'interno delle associazioni che riescono a diffondere queste notizie. Ma, questo ci tengo a dirlo, l'importante è che il front office del GAL è un front office molto qualificato, cioè le persone che vi aspettano al GAL per spiegarvi le cose, sono persone molto qualificate e quindi invito i giovani, quelli che hanno una storia imprenditoriale, tutti quelli che hanno un'idea al di là dei comuni che sono favoriti perché sono soci del GAL, a regarsi presso il GAL per avere delle delucidazioni. Il GAL è la sede ufficiale da Galvito, andate lì perché lì vi posso dare quella attenzione adeguata per farvi capire se il vostro progetto è adeguato, se state sulla strada giusta per fare le cose e soprattutto che cosa serve per fare un progetto imprenditoriale, perché spesso confondiamo un'idea che abbiamo con la possibilità di fare impresa. Di fare impresa. Sindaco, facendo il sindaco, ha avuto modo di incontrare politici che hanno amministrato i territori, quindi la provincia, la regione, che sono stati in Parlamento italiano europeo, tutti parlano di progetti europei, questo è un quesito che riprende un po' uno degli sms che è arrivato prima, ma secondo lei quanti conoscono davvero l'Europa, quanti conoscono davvero le regole europee e quanti si riempiono solo la bocca con l'espressione finanziamenti europei? Io le ho anticipato prima, francamente, lei mi ha stoppato la domanda, la mia risposta. Me la riservavo per questo nel momento plurio. Me ne sono accorto, me ne sono accorto. Bene, come ho detto prima, i dati parlano da soli, se noi non riusciamo a spendere i nostri soldi, quelli assegnati all'Italia e poi come diceva lei, poc'anzi, vanno a realizzare strade, le ricordo dove, era in Irlanda, vanno a realizzare le strade, tant'è vero che le chiamano, queste sono le strade degli italiani, ma non perché le hanno costruite gli italiani, ma sono state costruite con i soldi che spettavano agli italiani e questo chiaramente è un aspetto che ci deve in qualche modo far riflettere, e allora molti dei nostri politici, come dicevo prima, conoscono a malapena Bruxelles, il Parlamento europeo, dov'è? Ma per fare un'azione capillare sul territorio, per restituire ai comuni quella capacità di progettazione, bisogna anche in qualche modo costruire una rete che possa portare ai piccoli comuni soprattutto, che sono sprovvisti magari di staff che possono lavorare su questi settori e devono lavorare magari con l'amministratore, con il sindaco, con qualche dipendente anche attempato, anche attempato che è uscito magari prossimo alla pensione, fare azione capillare sul territorio, informazione chiara dei forum con i piccoli comuni e con tutti i comuni. Questo è quello che devono fare i nostri rappresentanti a livello europeo, costruire queste condizioni, altrimenti andare a Bruxelles e tornare è solo andare lì ad esprimere un voto, un voto per il Parlamento europeo, per esprimersi all'interno del Parlamento europeo, dimenticandosi che il loro ruolo è quello di riportare a casa, quindi di riportare nella nostra Italia, quei finanziamenti che oggi rimbalzano sul nostro territorio. Viscugliosi, lei ripeterebbe l'esperienza che ha fatto con il laureato, ma anche con l'altra struttura che ci diceva prima, consiglierebbe ad altri imprenditori di percorrere questa stessa strada? Lo rifarei assolutamente, lo rifarei sì, glielo ho già detto prima, insomma che stiamo già studiando nuovi progetti per implementare l'attività e per costruire qualcosa di nuovo che possa avvicinare sempre di più sul territorio il turismo. Oggi consideriamo che la nostra autonomia per quanto ci riguarda è un elemento importante, un fattore importante per la crescita del territorio. Quindi noi guardiamo sempre avanti, cerchiamo di proporre nuovi progetti per migliorare sempre le nostre strutture, adeguarle alle esigenze della nostra clientela. Cosa consiglierebbe a un imprenditore che magari non si fida dell'Europa? Perché dice ma sì, ma non mi ci metto a perdere tempo, tutte queste carte, chissà se non si riesce a fare una cosa in Italia, figuriamoci con l'Europa. Innanzitutto bisogna credere nei progetti, non pensare soltanto a fare la domanda per ricevere dei contributi, ma finalizzare quei contributi allo sviluppo delle proprie aziende. In questo modo allora c'è una possibilità vera di crescita dell'azienda, un'opportunità vera di avere dei soldi che in qualche modo poi portano un frutto all'attività. All'attività del Monaco. C'era un sms che chiedeva, d'accordo Igal, benissimo ci sono i finanziamenti per le start-up, la cooperazione la consiglierebbe a un giovane? È ancora uno strumento efficace, valido, che può funzionare? Guardi direttore, io adotterò quella cosa che ho letto lì, l'impresa giusta, sarà il mio slogan nei prossimi mesi per la cooperazione, perché io ritengo che giusta nelle varie accezioni del termine sia veramente la cooperazione, l'impresa giusta per favorire i giovani in questi territori. Noi abbiamo tantissime esperienze, moltissime di quelle cose che avete visto prima che sono fatti e non parole, sono state fatte con ragazzi che hanno delle cooperative. Adesso va tanto, in questo periodo stiamo costituendo delle cooperative di comunità, si chiamano, dei piccoli territori rurali, anche stiamo cercando un tentativo, ce l'abbiamo anche nel comune di Valle Rotonda, un bel tentativo, perché si è capito che l'idea, se è un'idea vincente, messa insieme e tutorata, cioè aiutata dal GAL e dall'associazione di categorie, da tutte le associazioni di categorie, ma anche, quindi parlo di Lega Cop, Conf Cooperative, AGC e altre associazioni, veramente possiamo dare una possibilità ai giovani di restare sulle nostre montagne. Intanto diamogli anche questa bella notizia che dalla regia ci stanno proponendo con questa scritta, il Frosinone è stato Corsaro a Terni, ha battuto la Ternana per 1-0. In virtù degli altri risultati che sono maturati in questa giornata di Serie B, il Frosinone in questo momento è secondo in classifica da solo e se il campionato si chiudesse oggi verrebbe automaticamente promosso alla Serie Superiore, non la nomino per Scaramanzia. Il Latina ha pareggiato 0-0 in casa contro il Perugia, ma la notizia che riempie il cuore è questo Frosinone da solo, secondo in classifica, nella posizione che dà diritto alla promozione diretta nella categoria superiore. Presidente, per concludere su questa notizia così bella, diamo un messaggio di ottimismo. In Europa stanno sempre avanti. L'agenda che usano adesso è quella del 2020, il 2020. Come arriveremo a questo 2020? Perché si usa questa agenda? Perché già oggi si pianifica in Europa quello che vogliono che venga realizzato entro quella data. Come arriveremo al 2020 e secondo lei questo territorio cosa saprà costruire entro il 2020? Dunque, noi è già da circa tre mesi che stiamo lavorando sui forum territoriali, cioè che è la nostra attività di attenzione sul territorio e che serve appunto per costruire un panel di progetti proposti da diversi soggetti che incontriamo. Tenete conto che questo lavoro di forum è un lavoro che si svolge su 28 comuni, quindi ce ne sono 28 soltanto comune per comune e ai forum partecipano tutti, dagli amministratori alle imprese, alle associazioni con i cittadini. Quindi è un momento e si conclude il forum con la proposizione di ottenendo dei moduli riempiti dove già i progetti sono prefigurati. Quindi noi torniamo via da questi moduli che hanno una base progettuale molto grande e che non nasce in astratto dai prossimi piani europei, perché i forum iniziano con una descrizione di tutti i fondi in essere in questo momento, dal 2013 al 2020. Quindi noi stiamo in corsa per costruire il prossimo programma che si concluderà con il nostro piano. In generale però i prossimi fondi sono veramente molto interessanti, perché dopo un lungo periodo, un travaglio enorme, finalmente anche l'Europa ha deciso di dare uno strappo al tema di cui facevo cenno poc'anzi, cioè della scala progettuale. Questi prossimi fondi saranno fruibili soprattutto se i territori partenariati e territoriali saranno ad aggregarsi. Come ho detto prima, se un problema, e questa è una questione che si dibatte ormai da tanti anni in Europa, se un problema si pone ad una scala, il territorio deve costruire un partenariato a quella scala lì, altrimenti non può affrontare quel problema. Le faccio un esempio semplicissimo, prendiamo il Fibreno, è un fiume, sul Fibreno insistono 4 comuni, Posta Fibreno, Brocco Stella, Arpino, Sola. Per la comunità europea il tema del Fibremo è un unico tema, ora se questi comuni non trovano un'intesa in un unico progetto, i fondi LIFE, che sono fondi per queste cose, non possono essere fruiti. Mentre prima però c'era tolleranza da questo punto di vista in Europa, oggi non c'è più. Se i territori si sapranno aggregare, ecco questa è la sfida nuova che abbiamo, se i territori si sapranno aggregare, è un catalizzatore di queste cose il Gall, allora potranno fruire di tanti fondi, perché come giustamente diceva il Monaco prima, noi abbiamo una disponibilità di fondi illimitata, il problema non sono la quantità di fondi, il problema siamo noi, il nostro approccio culturale a questo problema. Prima leggevo che qualcuno indicava l'Europa come una frontiera da abbandonare, io sono fermamente contrario a questo fatto, voglio proprio chiaramente, perché se non avessimo, io quando ho fatto il sindaco a Campoli, mi sono accorto, io mi occupavo di fondi istrutturali all'università, mi sono accorto che non c'erano fondi da noi nel 1995 e qui non arrivava nulla, c'erano dei fondi obiettivo 5B che comunque venivano presi solo dai comuni. Quando mi sono accorto di questo fatto, sono rimasto veramente molto colpito, che questo era un territorio meno di moltissimi territori italiani capaci di rendere questi fondi, ma allora ancora era possibile per i comuni presentare progetti singoli all'epoca. Abbiamo visto ora, le cose sono cambiate, forse abbiamo stimolato l'attenzione di più di qualcuno, Presidente, mi dà un numero attraverso il quale è possibile mettersi in contatto con la struttura del vostro GAL? Allora, do un numero di telefono che è il 0776 51 3015 che è il numero del GAL. 0776 51 3015, contattate il GAL se vi abbiamo incuriosito, per il resto tutte le altre informazioni www.galverla.eu e lo trovate su internet. Per concludere vediamo il quadro definitivo dei risultati, Brescia-Vicenza 3-0, Carpi-Bari 0-0, Spezia-Vittoriosa in trasferta contro il Cittadella per 3-1, Crotone-Vellino 2-0, Latina-Perugia 0-0, Livorno-Modena 1-1, Pescara-Provercelli 1-0, Terni, Frosinone-Batte-Ternana 1-0, Trapani-Lanciano 1-0, Virtusentella battuta in casa dal Varese per 1-0. In virtù di questi risultati il Frosinone è da solo secondo in classifica, se il campionato si chiudesse oggi sarebbe promozione diretta. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a voi a casa per averci seguito a Porta Aperte, torna tra una settimana, stessa ora, stessa rete. Arrivederci.